Ciao a tutti ragazzi, è un po' di tempo che non faccio un video tutorial, dopo aver fatto il video sul modem fibra di Windail, di Link DWA5592, ho visto tantissimi commenti che hanno segnalato che questo modem fa schifo, purtroppo ho scoperto che forse non fa così schifo perché anche io ho avuto problemi di disconnessione, soprattutto in wifi, mentre col cavo LAN comunque avevamo visto che con lo speed test funzionava molto bene. Ciao a tutti. In base al dispositivo che avete ho riscontrato che si può sconnettere o meno, il problema, adesso rullo di tamburi, è che il wifi a 2.4GHz e il wifi a 5GHz sono chiamati nello stesso modo. Infatti oggi andiamo a vedere come cambiare il nome alle due wifi in modo che non facciano casino con i vari dispositivi. Allora vi invito, adesso vi dico magari velocemente la differenza tra il 2.4GHz e il 5GHz, ma veramente veloce. Allora il 2.4GHz in poche parole dovrebbe supportare meno dispositivi, mentre il wifi a 5GHz dovrebbe supportare più dispositivi, quindi dovrete decidere quale utilizzare fra le due, anche se comunque pro e contro, potrete vedere tantissimi articoli su questo argomento. Non sono proprio sempre a favore della 5GHz, nonostante sia più recente e infatti in alcuni casi forse conviene utilizzare ancora la 2.4GHz, soprattutto per il raggio, perché comunque il raggio della 2.4GHz è più potente rispetto a quella da 5GHz. Detto questo andiamo a vedere come cambiare il nome alla nostra wifi. Allora io ho preso la guida ufficiale di D-Link che vale comunque anche per il nostro modem. In pratica dovrete digitare nella barra degli indirizzi 192.168.0.1 oppure cliccare direttamente sulla guida D-Link. Abbiamo anche altri indirizzi per poter effettuare l'accesso alla configurazione del nostro modem. Io ho fatto semplicemente così, ho cliccato su questo link, allora qui mi si apre la schermata del modem, adesso è il tempo di aprirla, dove la password, almeno nel mio caso, ma penso per tutti voi, sarà admin-admin. Ok, vediamo chi mi sta chiamando, pubblicità, solito i rompi palle. Allora, il tempo di aprirsi, ecco prima si era aperto subito, ecco ti pareva che non si apriva. Ah no, non ho aperto questa, scusate ragazzi, non ho aperto 192.168.0, ho aperto quest'altra, D-Link router local. Ecco, infatti mi stavo già sbagliando, però come sempre magari questi errori vi possono aiutare. Andiamo a cliccare, scusate, a scrivere admin-admin, cercherò di fare il più tagli possibili, ma scusate se ci sarà qualche refuso, soprattutto forse avrò già detto anche qualche cavolata sulla 2.4 e la 5 GHz. Allora, quello che dobbiamo fare è clicchiamo su configurazione, anzi sposto un attimo la webcam perché se no non vedete cosa faccio. Allora, qui abbiamo la nostra schermata, tutto funziona, andiamo in configurazione, andiamo in banda 5 GHz e 2.4 GHz. Io cosa ho fatto? Allora, andando a cliccare su una e l'altra, in pratica le due linee, se voi avete infostrada, in questo caso 67A793, in poche parole, in questo caso anche la 5.GHz si chiamava proprio nello stesso modo. Allora, io utilizzando la 2.4 ho lasciato lo stesso identico nome per la 2.4, sono ritornato nella home e ho cambiato il nome alla Wi-Fi 5 GHz. In poche parole, gli ho messo un trattino in fondo, gli ho aggiunto 5 GHz e successivamente, una volta che avrete cliccato su applica, il nome della Wi-Fi 5 GHz cambierà, in poche parole non avrete più il problema di conflitto, se un vostro dispositivo non farà fatica a collegarsi su entrambe le bande, comunque cercando di fare lo switch in modo da capire qual è la migliore, ma rimarrà collegata alla Wi-Fi che avete scelto. Ok, cliccate su applica, io l'ho già fatto, ci vorranno quei 10-15 secondi, il tempo di prendere la modifica. Per vedere le 2 Wi-Fi, io ho anche spento e riacceso il modem e in poche parole, se andate con il vostro smartphone o comunque altro dispositivo nelle reti Wi-Fi, una volta che avete riavviato il modem, potrete vedere le 2 Wi-Fi 2.4 e, come ho fatto io, vedrete la seconda Wi-Fi con scritto 5 GHz. In questo modo l'Amazon Fire Stick non si sconnette più, anzi riesce subito a trovare il Wi-Fi, come comunque succedeva prima con il modem ADSL normalissimo. Per questo problema il Wi-Fi poteva sembrare instabile e quindi un sacco di commenti sul video dove appunto dicevano che questo è un modem del cavolo, era meglio l'altro modem della Fritzbox, eccetera, eccetera, che comunque fino a questa scoperta, che comunque ringrazio sempre chi mi ha segnalato questa cosa, e il modem risulta essere sicuramente in questo caso buono. Spero di rifarmi con questo video, anche se comunque anche il precedente video è andato molto bene, ho visto che l'avete apprezzato, perché comunque non ho fatto tagli, ho cercato di farvi vedere la mia prima configurazione appena sono tornato a casa e che mi era arrivato il modem dal corriere. Allora, spero che con quest'altro video riesco a risolvere il vostro problema di Wi-Fi, di disconnessione, soprattutto anche con l'Amazon Fire Stick, come ho fatto io. E niente, spero che il tutorial vi sia utile, perché secondo me veramente è necessaria questa cosa, e ringrazio ancora l'utente che me l'ha segnalato, anzi scusate che non mi ricordo il nome, Francesco Canali, lo ringrazio assolutamente e spero che il video tutorial vi sia piaciuto. Io vi saluto e noi ci vediamo col prossimo video. Ciao!